Lo Sport in collaborazione con Pegaso annuncia 40 giorni di offerte Finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30% Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria Possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita Dopo l'arrivo a Torino da star, il bagno di folle alle visite mediche E la maglia bianconera numero 9 mostrata dal balcone di Corso Galileo Ferraris Gonzalo Higuain si è presentato in conferenza stampa allo Juventus Stadium Hanno una mentalità vincente, hanno un progetto incredibile E questa è una delle cose per le quali ho venuto qui E non posso dire di più Solo ringraziare Agnelli, Marotta, Paratici Che hanno fatto un grandissimo sforzo E dimostrare a loro perché mi hanno comprato E speriamo fare una grande stagione La Juventus sta con una grandissima squadra A cui l'importante, almeno lo che ho visto in tutti questi anni È che è una squadra che gioca con tutti e per tutti Non è che c'è un singolo che vuole fare qualcosa Le cose si vincono in collettivo E penso che la Juventus in questo punto è una delle più forti che ha In la vita si deve prendere una scelta, una decisione Io l'ho preso perché pensavo che era lo meglio per me Ovviamente non è stato facile Sono stato giornata lunghissima con mia famiglia, con i miei amici Non è stato facile per niente Sì che mi ha spinto lo che ho detto Che è una società con la mentalità convinta di vincere E questa è una delle cose più importanti per un giocatore Per me è un'allegria immensa Ovviamente ancora forse non mi rendo conto di quello che ha successo E spero, come ho detto prima, esfruttarlo al máximo E vincere tanti títoli con loro Adesso mi tocca dimostrare a me perché mi hanno pagato quel soldi Io ho arrivato a Madrid, stava Raul, balnista, Roy Grandissimo, centroavanti, non ha avuto mai problema Ho andato a Napoli, aveva centroavanti, non ha avuto mai un problema No, penso perché deve avere un problema Al contrario, penso che come ho detto prima La squadra la vince il collettivo, non un singolo Quindi lui mi ha salutato benissimo Abbiamo stato benissimo Per me, zero problema Il meteo, in collaborazione con Immaginate di essere in una piscina con spiaggia Ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina Che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche Senza cemento armato, senza concessioni edilizie E con le detrazioni del 50% Punto Fuoco Le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03 Franca Villabisio vi aspetta il 29, 30, 31 luglio Alla 27esima sagra del raviolo Il menù prevede, oltre ai fantastici ravioli Varie specialità, tra cui un piatto misto di salumi Verdure pastellate L'onza al forno con patate Seppie alla Livornese Serpentine di salsiccia infilate E per finire torte di frutta fresca Torta della nonna Crema caffè gelato E palla di neve Gelato fior di latte Con cuore a caffè In guscio di meringa Tutto artigianale Il tutto accompagnato da vini gavi di OCG E Rossi Doc Le serate saranno aglietate Da venerdì 29 luglio L'orchestra Lillo Baroni Sabato 30 luglio Emozioni Band E infine domenica 31 luglio Grazie alla Group Franca Villa Bisio vi aspetta da venerdì 29 luglio Con la sagra del raviolo Play 2 History 4 Villa Gabrielli Sabato 10 settembre Presso il palazzetto dello sport di Ovada Strada Grillano Alle ore 21 Grande evento di musica internazionale Con personaggi storici degli anni 70 Come John Ackett David Jackson Il ricavato della vendita dei biglietti Andrà a finanziare il progetto Coltiviamo il benessere in Villa Gabrielli Che mira a rendere fruibile Il giardino ortoterapeutico Per migliorare la salute Ed il benessere dei pazienti Affetti da malattie croniche Coordinato dalle associazioni Vela, Adia, Aism Con il supporto tecnico Della Fondazione Cigno Vi aspettiamo il 10 settembre Ad Ovada Per richieste e informazioni Fondazione Cigno Onlus Chiocciola gmail.com www.parcovillagabrieliovada.it Telefono 334 6289 157 www.parcovillagabrieliovada.it www.parcovillagabrieliovada.it Grazie.